... Blitz anti-degrado della polizia, gli ex magazzini generali, i cittadini chiedevano sicurezza, era ora. Recupero dell'ex centrale del latte, i cittadini chiedevano di essere coinvolti, il sindaco li incontreremo. Verso le elezioni politiche, Gerardi, Giovine e Zocca, tre assessori comunali di Vicenza in corsa per Roma. A bordo di un monociclo elettrico lungo la strada della Grande Guerra, la denuncia del soccorso alpino. Denunciato pluripregiudicato, era sottoposto a foglio di via ma girava in città col telaio di una bici in spalla. Anziani del centro di Via Colombo dipingono la struttura con un murale dedicato agli alpini. TG Vicenza ben ritrovati, un nuovo blitz delle forze dell'ordine all'interno degli ex magazzini generali. Per garantire la sicurezza nei quartieri è necessario scoraggiare la permanenza degli intrusi. Sicurezza è lotta al degrado. Nel mirino delle istituzioni la prevenzione attraverso la bonifica degli stabili abbandonati, diventati vero e proprio ricettacolo per la microcriminalità. Al confine tra i quartieri Mercato Nuovo e Santa Bertilla c'è la zona degli ex magazzini generali, che a seguito del fallimento è abbandonata a se stessa da anni. Gli agenti della questura con i colleghi della polizia locale hanno appena effettuato un nuovo blitz per accertare la presenza di eventuali intrusi. Ripulire questa zona dai rifiuti maleodoranti, abbandonati e allontanari senza tetto è prioritario per i residenti in attesa del recupero funzionale dell'area. Bisogna, ma che sarebbe anche un po' troppo tardi. Diciamo dovevano intervenire ancora prima perché è da tempo che c'è questo problema. La prima cosa che viene in mente è che la preoccupa avendo questa situazione. Beh, perché girano sempre persone poco raccomandabili, diciamo, per cui anche muoversi si ha un po' di timore. Lavoro qui, è sicurezza degli uffici. Spesso ci fermiamo fino a tarda sera perché lavoriamo in attività privata che comporta anche un orario oltre le 6, oltre le 18, 19 e a volte quando è buio c'è anche timore nell'uscire dall'ufficio perché non sappiamo chi c'è. Purtroppo sì, è un problema, ripeto, che comincia ad avere almeno 5-6 anni di realtà. Insomma, mi ricordo, sono tutti pompieri perché una volta hanno fatto... Poi venire, stavano facendo sì da mangiare, anche loro hanno le loro esigenze e abbiamo visto questo incendio, sono intervenuti. Sì, è un problema costante anche per loro da quel punto di vista. Perché ci sono tante persone con problemi di lavoro che occupano spazi che diciamo che non sono destinati alle abitazioni normali. Quindi ci si dovrebbe occupare sia della sicurezza ma anche di questi poveracci. C'è il degrado dell'indigenza di queste persone che vivono nei edifici abbandonati e fanno veramente un degrado alla città. E poi il pericolo perché se ci sono bambini che toccano certe cose, sporcizia e non si sa cosa ci sia in mezzo... Sì, beh, viviamo in un degrado continuo. Sì, una volta era un quartiere un po' più tranquillo, adesso ne vediamo di tutti i colori. Per cui auspichiamo che in qualche maniera ci sia anche una riconversione di queste aree e che permetta insomma in qualche maniera di recuperare un certo standard. E se avete problemi nel vostro quartiere, magari non di queste dimensioni, potete segnalaccelo tramite il Tg Linea Aperta, contattandoci via mail, via whatsapp o sms oppure attraverso la nostra pagina Facebook. Ex centrale del latte, torniamo al quartiere San Bortolo, dove i cittadini sono in attesa del recupero funzionale di questa area strategica. Abbiamo portato le loro richieste al sindaco. Quartiere San Bortolo, area dell'ex centrale del latte. L'aspettativa dei residenti è molto alta per il recupero funzionale e ambientale di questa zona, che diventerà sostanzialmente l'anima del quartiere. Una serie di funzioni ancora mancano, molte per il momento sono rimaste sulla carta e i cittadini aspettano. L'ex centrale del latte sicuramente c'è bisogno, c'è bisogno di finirla. Esatto, so che ci sono dei progetti e sembra che stiano andando un po' troppo per le lunghe. Cosa le penserebbe diventarsi? Un parco, comunque una zona verde. Abbiamo quindi portato la voce dei residenti al sindaco Francesco Rucco. Il progetto dell'ex centrale del latte arriva dal passato. Noi abbiamo ereditato questo progetto, quindi cambiarlo con il bando periferia è pressoché impossibile perché determinerebbe il rischio di perdere dei contributi importanti. Abbiamo realizzato il primo lotto, che sono i parcheggi e la nuova guardia medica, che peraltro aprirà a giorni. E dall'altra un secondo lotto, che per problemi legati alla rescissione del contratto con l'azienda che ci lavorava, abbiamo dovuto rimettere a gara, rimetteremo a gara finanziando ulteriori somme. I parcheggi arrivati con i lavori conclusi del primo lotto hanno parzialmente soddisfatto i residenti, vista la cronica mancanza, ma potevano essere realizzati diversamente, secondo il comitato locale. Siamo ovviamente, come avevamo già richiesto, contenti che ci sia l'apertura. Se devo essere critico nei riguardi di questo tipo di intervento, diciamo che noi lo volevamo meno impattante, cioè che prevalesse il verde rispetto al cemento. Troppo cemento, sembra quasi ad arrivare a un centro commerciale invece di un osi di tranquillità e serenità. Per cui adesso noi speriamo che quando ci sarà il più cospicuo secondo straccio si possa intervenire. Noi avevamo anche proposto, quantomeno su tutta quest'area di quasi 12 mila metri quadri, che ci fosse una piastra anche per i ragazzi, una piastra polivalente che potessero anche giocare. Quindi chiediamo anche di essere interpellati perché magari non è prevista questa piastra. Allora, siccome non vediamo, almeno potere, siccome l'abbiamo seguita dal 2005, penso che parlare insieme e quattro teste pensano meglio di due. E il sindaco cosa risponde allora a questa richiesta? C'è la volontà di costruire sulla base di un progetto già avviato e siamo disponibili, sono disponibili ad incontrare naturalmente il comitato dei residenti per ascoltare quelle che sono le loro osservazioni in merito. Manca poco più di un mese alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Sono tanti i vicentini in corsa, compresi tre assessori della Giunta Comunale di Vicenza. Tre assessori comunali della Giunta Rucco sono in corsa per Roma. Si tratta di Silvio Giovine, assessore al commercio, in corsa alla Camera con Fratelli d'Italia all'Uni nominale nel Bassanese. Mattia Ierardi, assessore alle infrastrutture sempre per Fratelli d'Italia, quarto al plurinominale per la Camera. Infine Marco Zocca, assessore al bilancio, fresco di deleghe acquisite al sociale. Corre per Forza Italia, capolista nel collegio plurinominale di Vicenza. Campagna elettorale che entra nel vivo, chiuse le liste alle otto di ieri. Si sono anche chiusi i giochi, non senza mal di pancia dei territori, dopo che la riforma sul taglio dei parlamentari ha imposto scelte drastiche e conseguenti esclusioni. Definite quindi le tessere di questo complesso mosaico elettorale, tra cui tanti i nomi vicentini in ordine sparso. A partire dal parlamentare uscente Pier Antonio Zanettin, Forza Italia, capolista al Senato Veneto II, collegio in cui corre anche la senatrice di Italia Viva, Daniele Sbrollini, dietro al candidato nazionale Carlo Calenda. Eric Pretto, in quota Lega, capolista al plurinominale della Camera, in cui spunta anche il nome di Giuseppe Castaman, presidente Viacqua Vicenza. Erika Stefani, ministro uscente, sempre in casa Lega, capolista al plurinominale del Senato nella circoscrizione Veneto I. Tra i nomi noti del Vicentino, Sonia Perenzoni per il Movimento 5 Stelle, Diego Zaffari, sindaco di Montorso per il PD, mentre il segretario nazionale del PD Enrico Letta è capolista nel collegio plurinominale a Scelto Vicenza per il braccio di ferro elettorale. Tra gli altri i candidati per noi moderati, Luciana Zaccaria dell'Associazione Azzurro Donna, seguita da Stefano Lain, sindaco di Grisignano di Zocco. Ai blocchi di partenza quindi per un mese infuocato. Chiuse le liste, da oggi si pensa ai programmi. Ha scatenato le polemiche il contenuto di una fotografia condivisa e pubblicata dal soccorso alpino-speleologico Veneto. Una persona in monopattino percorreva con tranquillità il sentiero della Grande Guerra. Sulla strada degli eroi di guerra in un tratto che conduce sul massiccio del Monte Pasubio a bordo di un monociclo elettrico a denunciare il fatto con la pubblicazione su Facebook di una foto scattata nel weekend è il soccorso alpino-speleologico del Veneto. Nella propria pagina ufficiale ha lasciato un post ironico poi rimosso dal titolo quando la realtà supera la fantasia con l'immagine che immortala l'escursionista che affronta un tratto in salita prima dell'ingresso in una delle 52 storiche gallerie considerate sacre della Grande Guerra. Aspettiamo la zucca trainata dai topolini, il commento dei curatori della pagina in rete che ha avuto una scia di commenti da parte degli internauti. Circolava con un telaio di una bicicletta in spalla, i poliziotti lo hanno fermato ed è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione dalla città. È stato denunciato un 28enne pluripregiudicato. Camminava con il telaio di una bici in spalla. Gli uomini delle volanti insospettiti lo hanno sorpreso in Viale Venezia con il telaio risultato poi di valore irrisorio. A seguito degli accertamenti l'uomo italiano del 1994 è stato identificato ed è risultato essere destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Vicenza ad aprile col quale gli veniva intimato di lasciare il comune di Vicenza per un periodo di tre anni. L'uomo è stato quindi indagato in stato di libertà e denunciato per l'inottemperanza del provvedimento. Combattere la siccità con nuovi impianti dedicati al consumo umano e agli impianti industriali. Ecco le strategie in Valle del Chiampo. Fra qualche mese sarà cantiere per creare un centro idrico a Tese di Arzignano dove la falda è abbastanza ricca dove andremo a creare di nuovi pozzi, un serbatoio importantissimo ma dove andremo a trattare e filtrare tutta l'acqua per impedire ai FAS di fare il loro percorso dentro l'acquedotto. Quindi andiamo a purificare l'acqua e parliamo di un investimento di 8 milioni circa. Sono queste le caratteristiche del nuovo mega impianto idrico di cui si è appena conclusa la fase progettuale definitiva e che consentirà l'inizio dei lavori già nella primavera del prossimo anno per concludersi nel 2024. Una strategia per fronteggiare la siccità dei prossimi anni. Il serbatoio dovrebbe avere 7500 metri cubi di accumulo e è fatto proprio in funzione di dire le emungo, le accumulo e dopo da lì attraverso filtri le pulisco e le rimetto in rete eccetera eccetera. E con questa poi struttura andremo a connetterci con Montorso con la zona di San Mortoglio. Quindi è un bel centro che dovrebbe soddisfare tutta questa zona. Da un progetto praticamente concluso si tratta ora solo di individuare le ditte appaltanti per realizzarlo. Dopo un confronto con i sindaci dell'Alta Valle del Chiampo si sta sviluppando una nuova idea che verrà discussa in autunno. Realizzare un nuovo centro idrico dedicato esclusivamente ai comuni dell'Alta Valle per scongiurare il rabocco delle vasche con le autobotti come è accaduto quest'anno. Costo stimato un milione e mezzo di euro per almeno mille metri cubi di accumulo. Ci vuole un anno per sviluppare l'idea e preparare un progetto perché poi bisogna portarlo in consiglio di amministrazione in assemblea di sindaci e in consiglio di bacino. Dopo bisogna pensare al finanziamento ma lo troveremo e poi bisogna attivarsi i lavori che potranno durare al massimo un anno. Quindi teniamo conto che lavorare in montagna e in culina non è come lavorare qua insomma ecco. Quindi per il 2024 questo? Penso per il 2024. Rendere la città sempre più attrattiva è l'obiettivo del comune di Arzignano che in collaborazione con quello di Chiampo grazie al nuovo distretto del commercio offre 75 mila euro per le attività commerciali. Arzignano punta a un rilancio in grande stile. Dopo la pandemia, dopo i lockdown e i deserti urbani adesso è tempo di tornare con forza a vivere a far vivere la città. Per questo la capitale della pelle dopo aver puntato sui mercoledì by night e sui sabato pomeriggio per bambini ora grazie al distretto del commercio costituito con Chiampo lancia un bando per l'erogazione di contributi dedicati alle attività commerciali. I nostri centri, i cittadini, i centri storici vivono grazie al commercio locale e alle attività commerciali presenti. In questi anni abbiamo cercato di dare aiuto e sostegno a tutte le attività. Abbiamo istituito anche il distretto del commercio Arzignano-Chiampo affinché sia un punto di riferimento e possa dare a tutte le attività commerciali delle opportunità. E le opportunità ci sono. In questo caso ci sono 75.000 euro di contributi per finanziare insegne, tende esterne, pergole attrezzature per il riscaldamento esterno sedie, tavoli e altri elementi d'arredo di pregio tutte voci pensate per migliorare la qualità dei locali e dei plateatici un aiuto concreto per rinnovare e rendere più attrattiva l'offerta del tessuto commerciale del distretto. È importante perché questo è un momento complesso difficile dove bisogna crederci e buttare il cuore oltre all'ostacolo. Il comune di Arzignano c'è e stiamo dando il massimo impegno possibile per rilanciare la città a beneficio non solo delle imprese ma anche dell'intera qualità della vita dei nostri cittadini. Torniamo a Vicenza dove gli anziani del centro di Via Colombo hanno realizzato un murale dedicato agli alpini. Alpini che cucinano alla griglia anziani seduti a tavola in una giornata di festa. Questo è il soggetto del grande murale che da qualche settimana abbellisce la parete esterna del caminetto al centro civico di Via Colombo al villaggio del Sole. A realizzarlo il gruppo La Bottega dei Senior che si cimenta nella pittura nell'ambito delle attività del centro gestito dall'associazione Senior Veneto. Il soggetto è stato scelto per ringraziare gli alpini che spesso animano le attività della struttura e del quartiere. Murale che è stato realizzato dopo che il Comune ha bonificato la facciata dell'edificio dalle infiltrazioni di umidità con una spesa di 10.000 euro. Nuovi interventi sono in programma per bonificare le altre pareti su cui gli artisti del centro anziani si potranno cimentare ancora nell'arte dei murales. La serata di Rete Veneta proseguirà alle 21.15 con Focus condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli La politica e l'attualità con gli ospiti in studio Giulia Andrian Gianangelo Boff Marika Dallavalle Luca De Carlo Nicola Falconi Marina Marchetto Aliprandi Giorgio Pasetto Giacomo Possamai e Stefano Soldan è tutto per questa edizione di TG Vicenza vi lascio al meglio